Musica Devo dire ancora grazie, grazie a Franco perché è un uomo tenace, un imprenditore illuminato, forte, con passione e ci ha portato la letta in tutti i lati. Non dimentichiamo che ha portato la basket femminile in Serie A, un riluimento e forse ce l'auguriamo che si possa ripetere. Così non auguriamo alla società di Mario di Miccoli di emulare Franco di Cosola perché è stato un grande e passerà la storia del nostro calcio. Grazie a Franco di Cosola, grazie alla famiglia di Cosola. Grazie a tutti, grazie a questa amministrazione, grazie all'ospedalità del Presidente Miccoli, è un'onore per mio padre, sarebbe stato contento. Grazie ancora a tutti e in bocca al lupo per il futuro che faccio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Io ho tutto il piacere di conoscere, che si è avvolto una cosa, qualche passetta l'ho fatta anche quando la pari del Presidente, e poi io ho chissuto, grazie a lui e grazie a voi. E voglio ringraziare l'amministrazione, che è stata produttiva in questa cosa. Grazie ancora a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi girate, vi girate nel piacere, vi girate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.